Cordiali saluti a tutti ragazzi! E tra l'altro neanche l'ho messa in ordine, ma d'età! Come vedete anche mi sono tagliati i capelli, io non volevo farlo, ma l'hanno fatto e hanno suonato il campanello adesso, quindi questo video sarà veramente una cagata! Quindi, approfittando di questa situazione un po' sconveniente, chiamiamola così sconveniente con questi capelli, la verità è che dobbiamo andare a pettinarli, lo so, sono un po' senza spera! Vando alle cagate di Xilions, continuiamo con il video, che sarà pessimo come abbiamo detto! Approfitto appunto di questa occasione, tra virgolette, per fare una cosa che volevo fare da un po' di tempo, volevo farla ai 3.000 iscritti, come avevo detto nel video che linko qua, cliccate qua se non l'avete ancora visto, verso la fine del video prossimo, perché sto parlando così non lo so! Per anticipare una delle 2-3 sorprese, ne anticipo una, dai, sorpresa poi, sorpresa! Finalmente, Xilions apre il suo primo concorso, perché vuole festeggiare l'ondata di iscritti, o che si è iscritta, ultimamente, l'ondata di iscritti che si è iscritta! Mi sa che non è tanto corretto, mi sa che... se questo video lo vede il mio professore d'italiano, mi taglia la testa! Stempiata, tra l'altro! Quindi, allora, le regole per partecipare al concorso sono sempre le solite checate, però le ripetiamo in successione, aspettate 1! Vabbè, bisogna essere iscritti al mio canale, vabbè, questa ci sta! 2! Bisogna essere iscritti alla pagina Facebook, se non avete Facebook, dove vivete? Dove vivete? No, sto scherzando, dai, non importa! 3! Bisogna postare un video qua sotto, come video risposta, per, appunto, per partecipare... Mamma mia, non so proprio parlare oggi! Dove potete fare qualsiasi cosa! Potete fare un video comico, un video triste, un video schifoso, un video dove caccate, dove pisciate, dove vi buttate dal balcone... Per me va benissimo! Potete fare qualsiasi cosa! Numero 4, il video deve essere creato appositamente per il concorso, altrimenti non avrebbe molto senso! Quindi, oltre alla data, deve anche esserci scritto nel titolo, che ne so, concorso XIVIONS, concorso 2200 iscritti di XIVIONS... Eh, sì, insomma, che nome schifoso che mi sono scelto! Inoltre avete tempo fino... Dettiamo, facciamo un mese, facciamo un mese! Ma XIVIONS, che cosa si vince in questo concorso? Prima di tutto si vincerà sicuramente la sponsorizzazione su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, non è vero, soltanto su Facebook e su YouTube, ovviamente! Secondo, sicuramente anche questo ci sarà un video con me! E che gran cosa, un video con un idiota! Bene, ragazzi, quindi... Una cosa, per non lasciarvi proprio senza niente, no, dentro, no, perché questo video alla fine non è niente, magari al concorso nessuno gliene frega qualcosa, Cliccate qui, perché farò un piccolo extra, proprio breve, un video proprio del cacchio, proprio... Perché, dai, mi mandavo di lasciarvi, anche se sono in queste condizioni, in questa camera schifosa e senza capelli, tra l'altro, quindi... Cliccate, se volete vedere, altrimenti tranquilli! Non ci sarà bisogno di cliccare! Questo video è proprio pessimo, madonna! Proprio pessimo, cioè... Come mi è venuto in mente di caricare un video del genere? Cioè, non l'ho ancora caricato, in teoria, però... So già che lo caricherò! Perché mi voglio... Sono masochista, voglio perdere un po' di iscritti, perché... Mi stanno andando troppo bene le cose, ultimamente! Sì, dai! Eh, posso mandare anche a cagare, così... Ne perdo altri, dai! Andate a cagare! Dai, chi dica! Vabbè... Tre, due, uno... Vabbè... Grazie a tutti.